No Andrea, attento eh! Viene ai pomodori ragazzi! No no no, Andrea sul terreno scuro, non mi sa dire! Eh scottigia! Entri dentro! Ma come stanno i mobili, lo sai? Eh si! Profondi! Eh? Ci troviamo più, si si! E' molto profondo! Ora mi do molto già! E' molto profondo! A me nelle scarpe sei sicuro di mantenere la denta! Guardate adesso mi serve una spetta! E' molto profondo! E' molto profondo! E' molto profondo! E' molto profondo! Ragazzo dammi la paletta! Ragazzo dammi la paletta!